La scorsa volta abbiamo valutato qual è la casa che si può comprare migliore in assoluto su GTA V Questa volta vogliamo valutare un qualcosa di più particolare Qual è la casa migliore di GTA in generale? Nel senso, anche tra quelle che non si possono comprare, qual è la casa più bella in assoluto? Interessante, Stef Quindi oggi ce ne andiamo in giro, ci guardiamo un sacco di bellissime case E valutiamo qual è la più bella per il giardino, la piscina, gli interni che non possiamo vedere ma ce li sogneremo Aspetta, Fere Dimmi Cos'è questa cosa? Non lo so, Stef Fere, la vedi? Non lo so Che cos'è? È uno scacchi Con dei Buddha però No, con... O degli elfi Quali sono? Sono folletti Sono la metà di me, guardali Lo so, sono giganti E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Stef E oggi siamo qui con un altro episodio delle nostre valutazioni Ho deciso di chiamarlo così E oggi cercheremo di trovare qual è, secondo noi ovviamente, la casa più bella di Los Santos Esattamente, ovviamente che questo sarà abbastanza opzionale Perché comunque è anche una questione di gusti Ovviamente quando si tratta della bellezza di una casa è questione di gusti Allora io direi di partire dalla casa di Michael Perché così diciamo abbiamo una valutazione su una casa che conosciamo Quindi una casa che comunque in single player si può utilizzare E dopodiché andiamo a vedere le case che né in single player né online si possono acquistare Ma che sono comunque fantastiche Perché ne abbiamo visto Nel si può fare C'era capitata quella casa che aveva una sorta di caverna con la piscina Cioè, voglio andare proprio a valutare Ah sì, vero, vero, no Quel genere di case No, certo Ce ne sono davvero belle se giro un po' Secondo me quella era straordinaria Allora, come criteri di valutazione ne abbiamo messo 5 Abbiamo messo la grandezza della casa La grandezza del giardino La bellezza della casa La bellezza del giardino E la grandezza e la bellezza della piscina Che è una cosa, proprio un tutt'una Cioè la piscina è una valutazione che sta da sola E per me è importantissima Grandezza casa Questa è grande Ma non troppo Allora io sto facendo tutto il giro Perché sto guardando anche Sì, sì, certo devi fare proprio Vabbè ce l'ho presente questa casa Esatto, l'abbiamo sempre vista Da single player, capito Grandezza È grande però Secondo me è un 8 Cioè, ci sono secondo me villette più grandi di questa Secondo piano È molto ampia Quindi sinceramente non ti serve neanche una casa più grande di questa Cioè, è molto grande Grandezza giardino Secondo me non è troppo Perché se vai a vedere Molta è strada E giardino non ce n'è troppo Allora, diciamo che la parte di davanti è il parcheggio Esatto Però c'è da dire una cosa molto importante, Steph Perché se tu vieni qui dietro Ok C'è campo da tennis personale Lo so, lo so Quindi questo, secondo me, aggiunge un punto in più al giardino effettivo mancante Capito? E che voto li diamo? Eh, non lo so È troppo difficile, sono tutte belle questa Perché è gestita bene Mi piace come è gestito lo spazio del giardino Però c'è appunto tanto, tanto, tanto mattonella, diciamo così C'è poca erba C'è poca erba Esatto Esatto Secondo me anche questo è un 8 Non può andare oltre all'8 Secondo me 8 perché comunque Hai un bello spazio ampio Hai il campo da tennis Che è quello comunque un punto che lo fa guadagnare Direi un 8 Esatto Esatto Bellezza della casa da fuori Valuta proprio l'edificio Di facciata a me non fa troppo impassire Esatto Quindi gli darei un 7 È brutta, è un 7 Cioè, non è bella Se la guardi non è così bella da fuori Allora, io so già bene quelle Cioè, ho ben presenti quelle che andremo a vedere E ce ne sono molto più belle di facciata Anche secondo me Quindi questo è fatto La bellezza del giardino, secondo me, è un altro 7 Perché abbiamo pochissime piante, pochissima erba Eh, a me piacciono poi i giardini contanto Anche la piscina banalissima Dove ti puoi sdraiare nel verde, capito? Anche la piscina era molto banale Quindi Sì, semplice Votto della piscina contando che era piccola E tutto quello secondo me è un 5 Non è neanche un 6 Perché è piccola È semplice È banale È molto piccola Sei d'accordo? Sì, è molto, molto piccola Ok Questa per quanto mi riguarda Normalmente è una casa fantastica E si è presa dei voti che non sono proprio alti Proprio perché Sappiamo di case molto più belle No, beh, sì Mi ricordo che anche gironzolando E per farvi capire quanto andremo a vedere delle case favolose Quindi, beh, iniziamo ad andare a fare sul serio Questa qua era soltanto il riscaldamento No, certo Adesso ci godiamo Poi, vabbè, c'è da dire che dare voti basti a questa casa Un po' nerezia Ci vuole coraggio Perché davvero Cioè, se mi regalassero quella casa ci vivrei domani Proprio Neanche fare i bagagli Ma quello è scontato Qua stiamo Andrì direttamente lì Valutando i videogiochi Perché nella realtà andrebbero tutte bene Sì, certo E a voglia No, nella realtà sarebbe fantastica Allora Secondo me le più interessanti sono nella zona della scuola Lì, secondo me, abbiamo quelle più grandi in assoluto Ovviamente nei commenti proponeteci anche le vostre preferite Perché sicuramente non riusciremo a vederle tutte, tutte, tutte No, beh, sono tante Guarda anche questa Questa è una stradina privata Si entra da qui Però, dai, no No, 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 no Niente la valutiamo Perché ce ne sono di più belle Quindi devi puntare C'è di molto meglio Proprio quelle belle, belle, belle Allora, la zona di quelle strabelle è qui Guarda, adesso ti ci porto subito Tanto è qui vicino Sì, 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 sì Stef, entra qui Non vedi che sta casa gigante Stef, non è una casa Quello è un villaggio Non è una casa No, è una casa Ma non vedi che è delimitato È troppo gigante Entra, ci stai Allora, fai il giro Ad entra dal cancello Sei sicura? Vedrai che è una casa Sì, secondo me è una casa Grande quanto il campo da golf No, Stef, è grande quasi quanto la scuola che è lì dietro Cioè, pensate Allora Fammi Fammi andare a vedere Buongiorno, possiamo entrare? Salve Salve, salve, grazie Sì, faccieli ce li aprono Sono sempre cordiali Cioè, tu mi stai dicendo Che è una singola casa questa Certo Altrimenti che cosa dovrebbe essere? Non ho idea Magari è una Allora, ha un po' l'aspetto da edificio Infatti ci sono tante persone fuori Sì Io non so se considera Non so cosa sia Mi scusi Per considerarla casa o edificio Mi scusi Ci sta a dire che posto è questo Magari ce lo dice in qualche modo Che poi probabilmente in single player in qualche modo in questo posto ci si va Eh, no, certo E quindi potremmo Però io non lo valuterei come casa, Stef No No Mi sembra più un edificio di qualcosa Nel caso tanto, Fere, non è una casa ma è un castello Quindi comunque non conta, capisci? No, esatto Secondo me No, abbiamo detto la casa più bella, non il castello più bello Esatto Fere, benvenuta in paradiso Sì, vabbè È proprio triste Vero? Sì, ma vabbè Quanto è bella la casa Allora, allora Iniziamo a valutare, Fere Stefano, anche il giardiniere Cioè il giardiniere Lo so Ma secondo te se la tagliano loro l'erba è gigante, ci metti sei anni Prima di tutto, grandezza della casa Secondo me questa è un nove o un dieci Mi sembra un dieci Cioè è enorme, è infinita Più di così non ti serve neanche a nulla Sei d'accordo? Più di così, no, dai Vada dieci Cioè è grande, è enorme Grandezza giardino Siamo ancora, secondo me, non ha una grandezza assoluta C'è poco verde Continuo a dirlo Sì, c'è poco verde Perché comunque lo spazio è davvero infinito E c'è più verde rispetto all'altra Quindi secondo me è un nove La bellezza della casa, per me questo è un nove Perché è bella per essere bella da fuori Io avrei detto un otto, ti dico la verità Davvero? Non mi fa impazzire da fuori Ah Non è esattamente lo stile che piace a me Ancora non l'ho trovato Allora facciamo una via di mezzo Otto e mezzo Tu dici otto, cioè io dico otto Tu dici, vabbè abbiamo capito Otto e mezzo, abbiamo capito Otto e mezzo A parole mie Bellezza del giardino, quindi della parte di fuori Secondo me non tanto è starei su sette Sei d'accordo? Sì, non mi fa impazzire Perché grande sì, ma bello? Insomma Eh, e stai qui contando che non mi piace neanche la parte del retro Piscina, cinque No? Sì, sì, ma è proprio brutto Ok Diciamo che è partita subito benissimo con i primi voti Ma poi non è andata così tanto bene Quindi non è invincibile Non è invincibile Di fettucci, insomma Questa qua è molto simile a quella dove eravamo È molto simile Aspetta, Ferre Dimmi Cos'è questa cosa? Non lo so, Stef Ferre, la vedi? Non lo so Cos'è? È uno scacchi Con dei Buddha, però No, con O degli elfi Quali sono? Sono folletti Sono la metà di me, guardali Lo so, sono giganti Ma che è questa roba? Guarda che bella piscina Allora, questa casa la valutiamo Ieri ho partito per non valutarla Ferre, non spostare le cose, per favore Non far danni Sì, sì, hai spostato Ferre, smettila Ma smettila Sono gelosa, Stef Allora, la grandezza della casa Mi pare un altro dieci Perché c'è già il port C'è già, hai capito? Guarda, forse Se la guardi bene Anche qui dal lato A me sembra anche più grande Dell'altra Anche secondo me Quindi comunque Leggermente ma un po' più grande Io valuto dieci Il fatto che più grande di così È totalmente no sense Quindi gli diamo un dieci a tutte Per quanto riguarda la grandezza Grandezza giardino Mi sembra un po' come l'altra No, Stef Aspetta, aspetta Vieni, seguimi Tu non hai visto una cosa Cos'hanno questi qua nel giardino? No, oltre la piscina Ti seguo, ti seguo, ti seguo Cosa? Guarda qui Guarda qui che bello Ma è il laghetto per le rane? Hanno un lago intero Tutto No, è bello questo giardino Ma che è sto posto? E poi guarda Continua tutto qui dietro È enorme Lo so, lo so Questo è bello Ha tanto verde Io il lago lo apprezzo tanto Però secondo me non è un dieci Stiamo a grandezza Non bellezza No, non è un dieci Ok È un nove Sì, perché è grande Ok Nessuno può dire il contrario No, no, piccolo non è Bellezza della casa Secondo me è peggio dell'altra Stai continuando a buttare giù tutto Sì E gli diamo un sette e mezzo Sì, dai Non mi piacciono questo giallino Esatto Bellezza giardino Qui è bello Allora, innanzitutto Anche se tu hai riso A me la scacchiera così piace Ti piace? Sì, mi piace No, a me no Io la trovo davvero bruttissima Io ci giocherei pure Travagante ma brutta La trovo bella E poi mi piace tanto Mi piace poi anche la piscina Come ci sta Anche se la volentiamo dopo Molto verde E apprezzo tanto il lago Ok Quindi questo secondo me Un 9 se lo prende Vai, sono d'accordo Lo accetto volentieri Piscina Secondo me 8 e mezzo Sì Possiamo far di meglio con la piscina Però È la prima esteticamente bella Esteticamente bella Mi piace Mi piace Siamo d'accordo Siamo d'accordo Siamo d'accordo Ok Per adesso Siamo a tre case E non vorrei dire Bagionate Ma mi pare che questa qui Sia prima in classifica Al momento Questa Sicuramente È la casa Che ha vinto Però Se noi scavalchiamo Non da questa parte Ho sbagliato Ci sono i vicini Che mi sembra Che hanno una casa Molto interessante Quindi un attimino Andiamo dai vicini Andiamo dai vicini Perché i vicini Hanno un campo da tennis Guarda Vieni a vedere Eh sì Capisci Ma che casa avete Ma che cos'è poi questa cosa Una montagna Volevano la montagna in casa Sai che cos'è Poverini Te lo dico io Che è successo Allora Questi Sono stati gelosi Che quelli Non solo sono fatti La casa più grande Ma pure il campo da tennis Se li hanno buttato la terra qui Quella che hanno usato Per fare il La scacchiera La scacchiera Certo E quindi li hanno tirata Stanno competendo Per la casa più bella Beh io sarei gelosa E noi siamo i giudici Io sarei gelosa Sì Fere C'è non Il portico Però è bello eh E questo tecnicamente Che spettacolo Dovrebbe essere un caminetto Cioè non so se è funzionante Magari vogliono Forse è solo estetico Ma dovrebbe essere un caminetto Addirittura Stava guardando male Sto tizio Lo buttiamo in piscina Allora tu stai lavorando qua Quindi non guardarmi male Aspetta 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 No Immortale Fere ma Gli hanno rubato due pezzi Della scacchiera Per vendicarsi Quelli che mancavano Si sono vendicati Per la terra Messa nel loro giardino E sono andati a rubarli Due buddha Io non ho parole Perché non sono dei buddha Non sono dei buddha Sono dei buddha elfetti Se tu li chiami I buddha elfetti Sono loro Senza dubbio Fere No no fidati Fidati Ma lo dobbiamo valutare Sta casa No 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 Lasciamola perdere Ascolta Le stiamo visitando Tutte troppo simili E siccome Non riusciremo a vedere Tutte le case del gioco Ok ce ne andiamo Voglio andare in qualcosa Di un po' diverso Perfetto Dai prendiamoci una macchina Scusi signorina Dietro la casa C'è il paradiso Allora Allora Fammi arrivare Vengo 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 Fammi vedere un po' Allora guardiamo bene Tutto da davanti E ormai sono andato dietro Guarda la piscina che hanno Vai vai vedrito Ok Guardala Ok Questa è bella Come ti sei tu fatta Era bella Dalla serie Vedo la piscina E si lancia Questa è bella Allora Allora Andiamo da davanti E valutiamo Grandezza e bellezza Ok Poi valutiamo Piscina e giardino C'è da dire che sul giardino Non ce n'è praticamente Non ha un giardino Praticamente non ne ha Giusto quel che ci spugno Ma non ha un giardino Lì perde un sacco di punti Grandezza a casa È decisamente più piccola Di quelle che abbiamo valutato Quindi non può essere un dieci Ok Però è un otto Perché è grande È un otto È un otto È un otto Sono d'accordo Sono d'accordo Allora Quindi Otto Come grandezza Grandezza e giardino Dobbiamo dargli un sei Vero? Perché comunque contiamo anche Dai No contiamo l'ambiente Esatto Non il giardino è inteso come erba Esatto Bellezza della casa Dieci per me è bellissimo Dieci Per me è un nove E dieci è quella a fianco Quella a fianco è più bella Facciamo nove dai Quella a fianco è più bella Ok Quindi nove Bellezza giardino Dobbiamo dargli appunto un sei Perché non ce n'è molto E non è molto bello La piscina Secondo me è un nove Sì Vero? Bella Bella Grande E' stata in quello stile Con un diciamo precipizio di sotto Sarebbe stata la dieci Però così è bella ma non perfetta Ragazzi Lasciateci un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il link E iscrivervi per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao